Musica Nuova puntata di Mondo Artigiano, questa volta tutta al femminile, ci occupiamo di donne imprenditrici, donne artigiane, dunque c'è la necessità sicuramente di avere un grande talento, una grande creatività, ma è difficile destreggiarsi anche in un mondo fatto di economia, burocrazia e competitor. Per questo esiste il movimento donne di Confartigianato per tutelare e sostenere le donne imprenditrici. Innanzitutto parliamo con la vicepresidente del Piemonte, di Confartigianato Piemonte, tra l'altro una delle pochissime in Italia, a ricoprire una carica nei vertici di Confartigianato. Ecco, vediamo quali sono i numeri delle donne in Italia che fanno questo lavoro. Allora, io sono stata la prima in Piemonte a diventare vicepresidente e sono seconda in Italia. Questa dimostrazione comunque è l'assessibilità che abbiamo noi in Piemonte, dei vertici che hanno lasciato spazio alle donne. Rappresento comunque dal 20 al 25% delle donne iscritte in Confartigianato. Che è un numeri sicuramente importanti. Importante. Io amo ricordare che siamo con un nostro milione e mezzo di laureatrici autonome con la partita IVA in Italia. Siamo leader in Europa, mentre in secondo piano arrivano i francesi con un milione e tre circa, i codi un milione e due, la Germania. Vediamo anche quali sono le novità di quest'anno. Perché con la legge di stabilità, e ne stiamo parlando ormai da qualche tempo, mi sembra anche di aver capito che in questa categoria ci sia anche stato un certo favore nell'accogliere questa legge. Ci sono delle novità appunto anche per le donne imprenditrici di un certo peso? Sì, è stata la prima volta che vengono considerate nelle normative per la conciliazione le laureatrici autonome. Questo è un fatto storico. Perché qualsiasi normativa a favore delle mamme lavoratrici veniva poi comunque ottimizzata dalle lavoratrici dipendenti in quanto loro hanno orari più stabili e tutto molto più semplice. Finalmente hanno allargato questi voucher babysitting che vengono erogati dall'Inps, hanno stanziato due milioni di euro, anche alle imprenditrici autonome. E lì devo dire, anche perché quando stava per passare questo DDL a livello nazionale, noi rappresentanti regionali ci siamo subito attivate a telefonare a tutti i parlamentari di nostra conoscenza, io personalmente ho parlato con Mino Taricco, ho parlato con Enrico Costa, che quel giorno lì velocemente passasse questa normativa, allargasse finalmente anche le imprenditrici. Devo ringraziare anche i parlamentari locali che sono attenti al territorio. Si allargano anche degli altri orizzonti con questa legge che ricordiamo è stata approvata a dicembre del 2015. Sì, poi nella legge di stabilità, sempre un successo nostro del Movimento Donne, è il Fondo Serenella. Adesso devo raccontare un po' di storia di questo fondo, perché altrimenti non si riesce a capire come nasce. Si parte dal caso di una nostra associata a Pordenone, in Frivo Venezia Giulia, che è lei con una felagnameria fornitrice di porte e fornitrice di una grande azienda. Cosa succede? La grande azienda cambia nome, cambia ragione sociale e non paga i fornitori. Lei come piccola azienda, subito vittima, lei comunque inizia subito a paga i dipendenti, paga le tasse, però in pochissimo tempo si trova con un debito di 350.000 euro. E con un debito così poi non ce la fa affrontare. Allora si attiva subito, scrive un libro, io non voglio fallire, vuol tirare fuori la dignità, e inizia a spedirlo a tutti i giudici a livello nazionale. Lì bisogna anche ringraziare molto la Confartigianato che l'ha appoggiata, l'ufficio della Guardia di Finanza di zona che ha subito preso in mano la situazione, e diventa un caso nazionale, lo portiamo alla nostra convention, anche il momento politico a livello nazionale, interviene anche lì l'onorevole Enrico Costa, devo ringraziare ai tempi vice ministro della giustizia, e intervengono subito per fare una normativa che vada a tutelare, la legge deve tutelare i più debole e non i più forti, quindi in qualche modo viene creato il fondo Serenella, che va a aiutare le aziende che stanno per fallire, ma non perché sta morendo di credito, non di debito, non perché non funziona bene, perché un fornitore più grande le sta staccomendo, le sta facendo morire. Bene, mi sembra di capire che questo Movimento Donne è una bellissima squadra, che va sia dal punto di vista nazionale, arriva fino al provinciale, lei infatti ne è un esempio, dal punto di vista provinciale, che cosa state organizzando per questo 2016, visto che sono tante le iniziative già in ballo? Sì, il Movimento Donne a livello provinciale segue due linee, segue il programma nazionale, che crea già delle formazioni molto importanti, poi a livello provinciale organizziamo anche noi delle serate, dei direttivi, ogni serata specifica ad informarci dal punto di vista sociale, tributario, di salute, fiscale, ogni sera abbiamo per sei o sette sere durante l'anno un esperto che ci parla di questa materia, quindi ci informiamo. Oltre a questo noi ci formiamo, non solo con il programma nazionale, ma qua a livello provinciale facciamo dei corsi di formazione che vanno a integrare quello che è il percorso nazionale. Sono molto contenta perché già nel 2015 abbiamo visto aumentare le iscrizioni nel Movimento Donne da parte delle imprenditrici e ad ora, a inizio anno, abbiamo già di nuovo delle richieste di iscrizioni, siamo già arrivate quasi a 50, sembrano poche, in realtà sono parecchie. Per una provincia come Cuneo, con una mentalità dedita molto al lavoro, dove la donna deve conciliare il lavoro con la casa, col marito, coi figli, quindi a poco tempo le riunioni vengono quasi sempre fatte alla sera e le formazioni durante il giorno, quindi togli del tempo a quella che è la tua vita privata perché non la puoi togliere al lavoro. E quindi sapere che ci sono donne che si stanno veramente interessando attraverso il nostro giornale perché leggono i nostri articoli piuttosto che quando vengono in associazione e vedono la nostra segreteria parlano con la nostra segreteria e sono interessati ai nostri programmi, quindi vuol dire che quello che facciamo andiamo a stuzzicare le donne ed è molto importante questo. Ecco che quindi il movimento segue passo passo anche le vostre associate che vogliono intraprendere questa strada o che già l'hanno intrapresa. Quali sono le difficoltà maggiori che solitamente incontrano delle donne imprenditrici e artigiane? Innanzitutto il rettaggio culturale. Questo purtroppo c'è e rimane e bisogna lavorarci molto. Non sempre parte dagli uomini questo rettaggio culturale. Io lo dico sempre che a volte siamo noi donne che ci auto eliminiamo tra virgolette. Ecco perché il movimento donne punta molto a formarsi e ad informarsi perché la formazione e le informazioni ti danno la libertà di scelta ed è molto importante. Grazie per la visione!